Giovani dinamici, vogliossi di far bene con tanto entusiasmo, è l'identi kit di Matteo Battocchio e Saverio Di Lascio. I due nuovi tasselli incastonati dalla tonocalipo Calabria Vibo Valencia, che insieme al primo allenatore Antonio Valentini completa così lo staff tecnico della prossima stagione. Battocchio farà da vice a Valentini Di Lascio, lo scoutman, allora il compito di far volare la squadra gelorossa nel prossimo torneo di Superlega. Un campionato pieno zeppo di campioni, parecchi quelli arrivati o ritornati in Italia, tra le formazioni che compongono l'Olimpo del volley nazionale. La Gallipo proverà a sorprendere con un mix di giovani e giocatori di esperienza. Marra libero, presta e Mengozzi al centro, Skrimov sui martelli, Hal Akhdadi opposto e Zhukovsky al palleggio. Questi al momento i giocatori ufficializzati, non resta che attendere la ciliegina sulla torta e le seconde linee per ripartire alle sue buon passo per la CINUS24.